Piero Giulti, Sindaco di Reggello. Allora Sindaco, si arriva in Consiglio regionale presentando la vostra rassegna dell'Ole Stavirgine di Oriva e tanti di coloro che raccolgono le olive e si preparano all'olio sono proprio di Reggello, un'eccellenza della nostra regione. Sì, oggi siamo veramente contenti perché siamo ospiti del Consiglio regionale, ringrazio il Presidente Mazzeo per averci dato questa opportunità di portare Reggello su una vetrina regionale dove noi presentiamo il nostro prodotto per eccellenza, l'olio extravergine di Reggello, un prodotto che per le sue caratteristiche chimiche e organoelettriche è di altissima qualità. Quest'anno purtroppo la quantità non è elevatissima, però abbiamo un'ottima qualità dell'olio. E quindi noi ripartiamo dopo un anno di pausa, abbiamo fatto l'anno scorso la rassegna online e quest'anno finalmente in presenza abbiamo la possibilità di esporre attraverso i nostri produttori un olio buonissimo e quindi viva la festa dell'olio di Reggello.